I disperati tornano a riprendere possesso della loro povertà. Tutto si era svolto nel giro di poche ore, il blitz della polizia all'alba e lo sbantellamento da parte degli operai del comune del campo abusivo in via di Vincenzo all'Aquila, dove nove nomadi romeni, sei uomini e tre donne, avevano costruito alcune baracche al riparo della vegetazione e si erano forniti anche di un gruppo elettrogeno. I nove stranieri, che erano tutti senza lavoro e vivevano in condizioni di assoluto degrado, sono stati portati in questura per gli accertamenti di rito. Da un controllo sui loro documenti è emerso che quattro di loro non avevano il permesso di soggiorno, per cui dovranno lasciare l'Italia. Un altro giovane è stato riportato in Umbria, dove aveva la residenza, altri quattro invece sono stati avviati ai servizi del comune. All'interno delle baracche gli agenti hanno anche trovato numerosi cellulari, fotocamere e videocamere. La merce è stata posta sotto sequestro per accertarne la provenienza. Siamo tornati in quella zona per vedere e documentare l'abbattimento della baraccopoli, ma con grande sorpresa ci siamo accorti della presenza di alcuni giovani, intenti a risistemare le loro cose, per tornare probabilmente ad accamparsi esattamente nelle stesse condizioni di prima. Un fenomeno, quello degli alloggiamenti di fortuna, di cui purtroppo all'Aquila si sente parlare sempre più spesso. Lavoratori stranieri che arrivano in città attratti dal miraggio della ricostruzione, ma che restano allo sbando in una realtà difficile, così come ci spiega padre Quirino Salomone, della mensa di Celestino, che assiste ogni giorno centinaia di persone con problemi sociali ed economici. Con il terremoto qui all'Aquila si sono riversati tanti, specialmente gli immigrati, perché questa favola del lavoro e della ricostruzione ha creato uno specchietto dalle allodole, quindi si sono precipitati. E non soltanto quelli che vengono direttamente dall'estero, anche quelli che risiedono nelle vicinanze. Il problema dell'alloggio, io non mi sento né di giudicare né di condannare, perché le istituzioni, più di questo, noi all'Aquila siamo stati fatti oggetto di grandi attenzioni, però ancora tanti aquilani sono dislocati negli alberghi, cioè le case che non sono abitabili non è che possono essere messe a disposizione, forse anche per un rifugio non sarebbe neppure corretto, giusto perché sono immigrati e ci facciamo entrare. Non è possibile, proprio per una sicurezza.